Parliamo di sposo e vediamo il nostro concetto e lo facciamo qui con Luca. Vai! Vi anticipo che sarà un doppio cambio, quindi partiamo con un mezzo tight. Partiamo dal pantalone, vedi l'importanza di avere una giusta lunghezza che segue la vera lunghezza delle gambe. Il gilet, doppio petto, a completare ovviamente con cravatta in tinta. Manica perfetta, giusto un centimetro di camicia all'esterno. Dovremmo solo abbattere giusto un mezzo centimetro di spalle. Questo è l'abito da sposo, ecco perché consiglio sempre di non indossare lo smoping. Però ti sorprendo adesso perché guarda il secondo cambio. Ed ora la bomba che in caso di cambio d'abito, quindi al taglio della torta, ci possiamo concedere. E Luca se l'è concesso. Giacca tessuto l'orobiana, colore avorio. Un bottone petto a shawl, pantalone nero. Il mio viso deve essere veramente perfetto. Perché si stai sposo, è sposo.